Ecco i grandi preparativi delle bici, con il lato A di Silvia, prima abbiamo visto solo il lato B dentro la macchina. Vedo una nota di panico nel tuo viso. E non hai i bottoni, ho provato così a pedalare. Mamma mia, terribile! Ci sono i bottoni! Accidenti! I bottoni, i bottoni, i bottoni! Oh, eccoci arrivati! Eccoci qua, finalmente! Finalmente arrivati! Intanto per cominciare ci alleniamo... Eh? Con cosa ci alleniamo? Un classico! No, ci alleniamo con una bella birretta, no? Ecco, questa è la mia birra! Vergogna! Gin! Con che gente giro, mamma mia! Questa è una biblioteca dove puoi lasciare o prendere dei libri, liberamente. Buongiorno gente! Buongiorno! 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 Siamo pronti? Pronti! Ecco! Buongiorno! Buongiorno! E Bila pronta? Sì, prontissima! Bene! Allora partiamo? Sì! No, abbiamo la cerimonia! Ah, la cerimonia! Ma che cerimonia? C'è un kit che fa a giri con centri! Checco, sei pronto per la cerimonia? Pronto! Adesso mi spoglio e arrivo qui! Allora, eccoci alla partenza della ciclabile dell'ENS a Rastad. Andiamo a intervistare Francesco Nizza, uno dei favoriti della manifestazione. Bene! Allora, sono felice di essere arrivato uno! Che bravo! Allora, ho paura di questa bici elettrica, non vorrei prendere qualche scossa! Tu devi avere paura della compagnia soprattutto, degli scherzoni che ti organizzeranno in questi giorni! Secondo me! Vado a casa! Torno a casa mia a Trieste! A Trieste! Bene! Ci siamo! Partiamo! Sentiamo le Miss! Ciao! Buon viaggio! Vengo anch'io però! Dopo aver fatto una pipì! Aspetta! Un'altra Miss! Dai insomma Miss! Miss! Missetta! Come si dice Miss in tedesco? Come si dice Miss in tedesco? Oh no! Basta! Chiudi questa ripresa! Triscione a chi ne farà sicuramente buon uso nel primo boschetto che trovi! Grazie! Come tradizione! Si le va? un sorpasso il grande che qua dove sta andando sta tentando di raggiungere il primo che sta esalando l'ultimo respiro su una salitina guarda che c'è stato passato l'euro non vorrei dire senza motore dove siamo? Radbic prima semitappa prima semitappa ho fatto finire un chilometro con bicicletta senza potoni che bravo che bravo passa 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 che fatica che fatica ma la riguardo la riguardo la riguardo la riguardo e la riguardo e la riguardo e Non pensabili! Che paura! E quindi? E quindi andiamo avanti! E pranzo? E' presto perché ho fame! E' presto perché ho fame? Si, presto perché ho fame! E' molto elegante! Sono andato alle parrucchiere! E' molto bello! 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 Perché oggi l'uomo qua non gastruca bottoni. Ah no, è vero, oggi ha fatto gran parte del percorso senza premere i bottoni, tranne l'ultimo strappo. E a dire la verità, quindi, si è trascinato la bici più pesante. E a questo punto sorge spontanea una domanda. Ma perché? Buongiorno, e come mai siamo abbigliati così? Oh mio Dio. I regali hanno il ciocco, quindi c'è il suo regalo che compreranno. Esatto. Come si vede anche la mia... Bella mise, è spettacolare, devo dire, un'eleganza raffinata. Ecco, di a tutti cosa facciamo io e te. Ma qui stiamo facendo una cosa di, ciao, di altissimo valore sociale e umano. Esatto. Noi stiamo cercando quadrifogli. Esatto, non capiscono gli altri l'importanza di questo gesto. Non capisco e non sanno anche come uno si sente da dove l'ha trovato. E non sanno quanto uno si sente quando non lo trova. Porca... E quindi? E quindi ho vinto io! Tadà! Cosa hai vinto? Guarda, uno, due, tre e quattro. Guarda, uno, due, tre e quattro. Qui, e qua, mi prendono in giro. Ecco. Uno si è perso nel prato. Primo salitino, carino. No, grazie per la fortuna. Un fantastico stico. Sono in off. Sono in off. Sono in off. Sono in off. Grazie a tutti. E' bello? Ah, che bello! Grazie a tutti. Oh, che bellezza! Guarda che contenta! Certo che freddo è un fiume! Guarda che radio di sole che ti bacia la fronte! Mamma mia! Bravissimo anche perché quel brutto ti ha portato via la bici elettrica! Sei stato super! Il telecomando con la tv io! Ciao! Evviva! Buongiorno! Ci sono anche io eh! Non sembra però ci sono! E che sono davanti! San Galen! Eccoci arrivati dopo le durissime salite! Buongiorno! 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 Noi! Fuori, la re 21 st unw Buongiorno! no 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 Giaugli e salicetti, gli imbroglioni, gli avevano detto che questa era una tazza Sopra la panca, la capra, campa Sopra la panca, la capra Sopra la panca, la capra, la capra, la capra Sopra la panca, la capra Sopra la panca Sopra la panca Il più grande coltellino pieghevole del mondo Oh che svegli, che romantici, speriamo non si chiuda Ma questa qui è una bomba, anche se c'è ancora i V-brake alla vecchia maniera E' una delle bici più scorrevoli del mondo Ecco una variante dell'isola dei famosi Sopra la panca All right. All right. All right. All right. Ah, povero. Dove ti stiamo portando? A te? Un milanese? Un milanese? Un milanese? Vai, vai, vai! Arrivati! Ed ecco l'arrivo trionfante di Francesco Nizza! Fermo, 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 sentiamo le prime impressioni a caldo, le prime impressioni a caldo. A caldo, no, perché fa freddo. Fa freddo, come fa freddo? Fa freddo, siamo almeno a 20 gradi almeno, però ce l'ho fatta e forse sono rivolto uno anche questa volta. Bella, bella cosa, tanti chilometri, almeno 754, niente vento, poche salite, sto morendo. Ma sta fermo che... È il morbo di Parkinson, e bene, non vedo l'ora di ricominciare. Per farne un'altra, immagino. Secondo la prossima, come siete messi? No, possiamo continuare domani. Ok, allora domani io torno dietro in bici, basta mi portate le vanizie voi, va bene? No, adesso ho il bacio delle mie. Ohhhh...